Il gioco preferito dal mio gatto è guardare l'acqua sotto al rubinetto cercare di afferrare il suo mistero e dove vada e se ci va davvero si piazza a fermo lì con attenzione studiando bene la triangolazione poi cerca di seguire la corrente e poi finge di far finta di niente potrebbe stare libero dall'eroe fissando il perturbabile le gocce ed ogni tanto rifuffarsi là per noia o forse per curiosità ma ciò che c'è che al fondo mi è pieno è accoccolarsi dentro all'avellino con il dormire che ho spento pensando nel dormire tutta quell'acqua dove andrà a finire ma grazie a tutti Grazie a tutti